Avanti con Maria e sia lodato Gesù Cristo. In questo mese di giugno la Chiesa ci invita a guardare al Sacro Cuore di Gesù. È un'occasione propizia non solo per cercare di innamorarci sempre di più di Nostro Signore, guardando al Suo Cuore pieno d'amore, pieno di bontà e di misericordia che sulla croce viene ferito, ma è anche un'occasione per imparare da Lui, imparare da Gesù. Perciò mi pare molto importante che in questo mese di giugno, oltre alle pratiche che ci vengono raccomandate, la devozione ha sempre una grande importanza, noi cerchiamo anche di sviluppare un cammino di identificazione a Gesù. C'è quella bellissima espressione che tutti voi conoscete e che amo ripetere spesso anche io, Gesù mite e umile di cuore, rendi il nostro cuore simile al tuo. Questo è molto importante per la nostra vita, guardare al cuore di Gesù imparando a formare il nostro cuore nel Suo, quindi l'umiltà di Gesù nella nostra vita. La pazienza di Gesù nella nostra vita, l'obbedienza di Gesù al Padre nella nostra vita, lo spirito di orazione, di povertà, di umiltà nella nostra vita. D'altra parte tutta la vita cristiana ha come scopo questo, l'imitazione di Cristo, come si intitola quel bellissimo volume, quel testo che tutti noi dovremmo poter avere sempre a disposizione, l'imitazione di Cristo, imitiamo Gesù. E siccome sappiamo che tante volte questo non è facile nella nostra vita perché siamo segnati dal peccato, allora chiediamolo alla Madonna. Il Monforte nel Trattato della vera devozione dice che dobbiamo riuscire a seguire Gesù sulla via della croce ma con l'aiuto di Maria, che rende le nostre croci dolci. Ecco, ci mette lo zucchero. Allora questo vorrei raccomandare, impariamo a seguire la via che Gesù ci traccia con l'aiuto della Madonna. Lei ci tiene per mano e permette a ciascuno di noi di andare avanti nonostante le prove. Però quello che vorrei dirvi oggi, l'argomento di cui vorrei trattare questa prima trasmissione che facciamo con la grazia della Madonna oggi è quello della benedizione. Vorrei parlare un momentino di questo argomento qui. Quante volte sentiamo dire padre mi benedica? Ecco, ho saputo che purtroppo tante volte ci sono sacerdoti che rimangono un po' interdetti se la benedizione viene chiesta fuori dalla messa. Allora dobbiamo precisare una cosa molto importante. Innanzitutto la benedizione è una categoria biblica. Ci ricordiamo molto bene come nella Bibbia, nella Genesi, quando Dio crea, in più di un'occasione dice l'autore sacro Dio benedisse, soprattutto quando crea l'uomo e la donna. Dio li benedisse. Il termine benedire viene dal latino, benedicere, cioè dire del bene. Dire del bene come invocazione della benedizione di Dio. E che la benedizione, carissimi amici, sia preziosa e abbia efficacia, lo dimostra il suo contrario, la maledizione. Gli esorcisti sanno molto bene che ci sono molte persone che nella vita soffrono di grandi travagli, di grandi angustie e poi si scopre che alla base di queste sofferenze c'è una maledizione procurata dai genitori o procurata da qualche parente, da qualche familiare, da qualche amico che poi tante volte si ripercuote lungo il corso dell'esistenza. Lì occorre, come dice padre Amort, la preghiera anche di esorcismo. Quindi se la maledizione è così purtroppo efficace, molto più efficace è la benedizione. E poi noi vediamo come Dio invita Aronne, il primo sommo sacerdote, a benedire. Ecco, con quella formula che poi diventerà cara a San Francesco, il Signore ti benedica, volga verso di te il suo sguardo e ti doni la sua pace. La benedizione è molto importante, la benedizione che Dio accorda alla nostra vita è molto importante. Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci dice che la benedizione è un sacramentale. Che cosa sono i sacramentali? I sacramentali non sono i sacramenti, ma potremmo dire limitano e ottengono un'efficacia spirituale. Perciò bisogna sempre chiedere la benedizione ai sacerdoti, sempre. E noi sacerdoti dobbiamo sempre essere disponibili a darla questa benedizione. Io vorrei dirvi personalmente che uno dei momenti più belli per me è che mi ricorda la grandezza della mia dignità e quando i fedeli mi chiedono la benedizione. Padre mi benedica, ti benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Perché ci sono di quelli che ritengono che la benedizione valga solo quella della messa. Allora diciamo che la benedizione data durante la messa è la più importante, perché è la benedizione che conclude l'azione liturgica. Mi benedica di ogni potente, Padre, Figlio e Spirito Santo andate in pace. Però siccome è un sacramentale, la benedizione può essere richiesta dovunque, comunque e sempre. Non c'è un limite alla richiesta della benedizione. La Madonna a Meggiugorie, quando i veggenti presentano le richieste dei pellegrini e vogliono la benedizione della Madonna, in più di un'occasione ha detto che la benedizione sua è importante, ma la Madonna ha detto chiedete la benedizione ai sacerdoti perché la benedizione dei sacerdoti è la benedizione stessa di Gesù. E quindi bisogna chiederla la benedizione. Ci sono fedeli che non la chiedono mai e questo è un errore. Bisogna chiederla. La benedizione del sacerdote ci libera dagli influssi del maligno, perché noi influssi del maligno durante le giornate, soprattutto se facciamo un cammino di preghiera, ne riceviamo tanti. Per le anime più care a Dio che stanno facendo un cammino di santità non si tratta più di influssi malefici, ma molte volte di vere e proprie vessazioni che rischiano di rovinare la giornata o di introdurre in tunnel molto brutti. A volte basta anche una sola benedizione. Vorrei dire ai confratelli sacerdoti, benediciamo sempre il popolo di Dio. Mi ricordo sempre di avere letto nel testo dei Maria Simma, quella che ha avuto il carisma di parlare con le anime del purgatorio, un carisma importante perché oggi del purgatorio e di tutto ciò che è cattolico non si parla più, che lei un giorno vide in purgatorio un sacerdote che era lì e aveva il braccio destro tutto annerito e appesantito. Era la motivazione stessa della sua sofferenza in purgatorio. E Maria Simma domanda a questo anima sacerdotale di cosa si tratta e questo sacerdote risponde sono in purgatorio, soffro così perché nella mia vita sacerdotale, nei miei anni di sacerdozio, ho benedetto poche volte. Allora io da quando ho letto questa roba qui non faccio che benedire, anche quando sono in macchina vedo i bambini che vanno a scuola, i lavoratori in autostrada e le persone, veramente è un potenziale straordinario, ci libera dagli influssi del demonio la benedizione, ci ottiene la forza per andare avanti e soprattutto porta a compimento le opere che abbiamo iniziato, le iniziative. Io dico che bisogna in ogni azione che si fa in ogni iniziative, in ogni impresa, in ogni esperienza che noi avviamo, chiedere la benedizione a Dio. E siccome siamo tutti un popolo di sacerdoti, secondo appunto il sacerdozio battesimale, un papà deve benedire la mensa, una mamma può benedire il lavoro che svolge in casa, un papà e una mamma possono benedire i propri bambini. Se la nostra società va male, Satana è così forte, è anche perché la benedizione, che è un sacramentale prezioso, non viene più chiesta. E allora, carissimi, come concludere questa prima diretta della nostra radio Domina Nostra, se non così, con la benedizione? Che la benedizione del Signore vi raggiunga, carissimi. Possiate sempre, in qualunque iniziativa, in qualunque occasione, chiedere la benedizione di Dio. Vi mettete in macchina per guidare, fare un tratto, chiedete la benedizione di Dio. I papà, le mamme, i lavoratori che vanno a lavoro, coloro che insegnano, chiedano la benedizione di Dio. Cambia tutto, cambia tutto. Quando uno, in un ciò che fa, chiede la benedizione del Signore, cambia tutto. Perché la benedizione è come una protezione, capite? È come quando c'è questa copertura, chiamiamola antibiotica, di fronte a certi virus. Ecco, la benedizione ci protegge, la benedizione ci custodisce. Perciò mai come oggi, che Satana è così scatenato e viviamo tempi di grande travaglio, dobbiamo chiedere la benedizione. Carissimi, che il Signore vi benedica. Domandatela sempre la benedizione ai sacerdoti. E se loro, perché so anche questo, tante volte si indispongono alcuni o non capiscono perché questo, questo dipende dalla formazione tante volte dei seminari, dove non vengono spiegate purtroppo questi aspetti fondamentali. Allora siate voi laici a spiegarlo. Padre, a lei Dio ha dato un dono, che è quello di benedire. Mi dia la benedizione, perché la sua benedizione di sacerdota è la benedizione stessa di Gesù. Che questa benedizione scenda su tutti voi, augurandovi un mese di giugno vissuto dentro il cuore di Gesù. Vi ricordate che quando Santa Margherita Maria Lacocque, la santa del Sacro Cuore di Gesù, di Parele Monial, vide Gesù, ebbe le visioni di Gesù, e in una di queste occasioni Gesù ha preso il cuore di Santa Margherita e lo ha messo nel proprio. È una cosa che Gesù ha fatto con diversi santi. Ha preso il loro cuore e l'ha messo nel proprio. Ecco, e Santa Margherita dice che vide il proprio cuore diventare come un atomo in una grande fornace di fuoco. Quante volte i nostri cuori sono stanchi, i nostri cuori sono spenti, i nostri cuori sono avviliti, i nostri cuori sono depressi, provati, ammalati. Carissimi, carissimi, che Gesù prenda il cuore di ognuno di noi e lo metta nel proprio. E in questa fornace d'amore il nostro cuore possa trovare riposo, secondo le parole di Gesù. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Vi benedica e vi protegga Dio inipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Avanti con Maria.